Vi vorrei annunciare che desidero visitare il santuario a Cagliari. Quasi sicuro sarà nel mese di settembre. Perché tra la città di Buenos Aires e Cagliari c'è una fratellanza, per una storia antica, proprio nel momento della fondazione della città di Buenos Aires, quando il fondatore l'ha fondato, l'ha fondata, voleva nominarla città della Santissima Trinità. Ma i marinai che lo avevano portato laggiù erano sardi e loro volevano che si chiamasse città della Madonna del Buonaria. E' stato uno scontro fra loro e alla fine hanno fatto una negoziazione. La città è troppo lunga, il nome della città è lungo, si chiama città della Santissima Trinità e porto di Nostra Signora del Buonaria. Ma è tanto lunga, soltanto sono rimasti le due ultime parole, buonaria, Buenos Aires, ma è per la Madonna vostra. Grazie. 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 Grazie.